È veramente una gran felicità essere qua in questo momento che si sta facendo l'implantazione del più antico sarmento di uva in questo eco-museo della famiglia Dal Pizzol. Tutta una intermediazione della vimesa della Wine South America in questo momento unindo ancora di più Italia, Brasile e Slovenia. Un grande momento per la viticoltura brasiliana con questo gemellaggio delle vite più antiche del mondo. Wine South America Questa importantissima fiera che viene dall'Italia per Brasile e che qua in Brasile sta iniziando una lunga camminata di successo già sappiamo in questo momento che comincia oggi proprio la Fiera Internazionale di Vino posizionando il Brasile e il Sud America nel scenario internazionale della viticoltura e anche dell'enoturismo. Complimenti a tutti gli organizzatori e stiamo insieme lavorando per questo successo.